E' Alì che prega in camera sua? No, per il momento quella rimane la camera degli ospiti se permetti. Beh, Alì che cos'è? Non è un nostro ospite? Sandra, ribadisco che Alì è un lavorante, fortunatamente stagionale, perché altrimenti avremmo un altro ospite in casa. E che cosa lì? Il WC che gliel'hai pagato tu, non è quello? No, 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 ma quello lì sarà una cassetta, no?